Nuove tappe per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo che aggiunge nuove destinazioni al ventaio di offerte. Questa volta le mete desiderabili sono quelle della Grecia e dell'Albania. E per annunciare la novità, la Balkan Express Fly and Tour Operator organizza due giorni di eventi nel pieno cuore di Pescara, Piazza Salotto, con un parterre di tutto riguardo. Personaggi dello spettacolo, artisti internazionali, DJ e una festa aperta a tutti. L'obiettivo è sicuramente promuovere i nostri voli che partono dal 25 maggio verso Tirana, verso Corfu e Mykonos. E poi l'apertura del nostro nuovo aeroporto, tra virgolette nuovo per noi in quanto Balkan Express per la prima volta volerà adesso con dei voli regolari da Pescara verso i Balcani appunto. Un investimento importante che mette in evidenza anche le ambizioni, un accordo triennale che punta a rendere costante le nuove tratte e offrire un incoming per tutta la regione. L'ambizione è quella di far diventare appunto Pescara il nostro terzo aeroporto. Attualmente i nostri aeroporti di riferimento dove facciamo più di 70 voli a settimana sono Bari e Napoli. Sicuramente Pescara è il terzo aeroporto su quale puntiamo di ampliare e di arrivare ad effettuare tutte le destinazioni che già facciamo dagli altri aeroporti. Grecia e Albania si aggiungono così alle novità della saga che in soli tre mesi è riuscita a stringere accordi di grande rilevanza economica per tutto il territorio. È imprescindibile per un aeroporto che voglia avere ambizioni coltivare particolarmente l'attività certidistica perché è un contrappeso e un'integrazione dell'attività ordinaria dei voli di linea. Come l'opinione pubblica sa, relativamente ai voli di linea finalmente disponiamo di un'app internazionale quale Fiumicino, relativamente all'attività certidistica questa partnership con la Balkan Express e con i numerosi voli che sono stati presentati diamo una vera svolta anche perché non solo c'è prestigio e credibilità nel partner quale è la Balkan Express, uno dei più grandi tour operator del centro meridione italiano, ma anche per la durata del contratto di partnership che è di tre anni e dunque siamo di fronte a un investimento vero e a una sfida duratura in cui i protagonisti tutti credono.